Controlli a tappeto dei carabinieri in tutta la provincia nissena, con la scoperta di quattro discariche abusive tra Caltanissetta, Bonpensiere, Delia e Serra di Falco. Accertamenti che sono anche costati a due imprenditori la denuncia per l'accusa di gestione di rifiuti non autorizzata, oltre ai sequestri di diverse aree, disposti dal GIP di Caltanissetta su richiesta della procura. Ad essere denunciati dai militari dell'arma, un imprenditore edile di Bonpensiere il titolare di un'azienda di Delia. Nel primo caso, quello di Bonpensiere, i carabinieri hanno rinvenuto nella zona dove sorge l'impresa cumuli di rifiuti originati da attività di demolizione edile, ed è scattato il sequestro di un'area di circa 2.500 metri, oltre alla denuncia per l'imprenditore. Il secondo caso ha interessato un imprenditore di Delia, appunto denunciato a sua volta. I carabinieri hanno sequestrato un'area di circa 1.700 metri quadrati, all'interno della quale sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui rifiuti domestici, imballaggi e contenitori di fitofarmaci per uso agricolo-culturale. Per quanto riguarda il resto dei controlli, a Caltanissetta è stata riscontrata la presenza di rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata, con il rischio di danni ambientali, a Gesso Lungo, nei pressi del cimitero Angeli e a Santa Barbara. La prima discarica abusiva è stata individuata all'interno di un'area di 3.500 metri quadrati incontrata a Gesso Lungo, la seconda in un'area di 1.800 metri quadrati nelle vicinanze del cimitero Angeli. Gli investigatori in questi casi hanno trovato cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui rifiuti riconducibili ad attività di demolizione edilizie e rifiuti urbani. L'ultimo controllo ha riguardato un'area di 10.000 metri quadrati di terreno adibito e discarica e ne sono stati delimitati 1.200 a Santa Barbara. Trasmesso in questo caso anche l'avviso al sindaco di ottemperare allo sgombero e alla pulizia dell'area. Infine a sera di falco è stata delimitata un'area di circa 500 metri quadrati adiacente alla provinciale 41, sulla quale sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali pericolosi, tra cui rifiuti riconducibili ad attività di demolizione edilizie e rifiuti urbani.